I poliziotti hanno denunciato a piede libero due giovani incensurati palmesi, su cui pendono delle pesanti ipotesi di reato di procurata allarme e porto e detenzione illegale di materiale esplosivo. I fatti si riferiscono al recente episodio di un ordigno posizionato dinanzi al Collegio di Maria di Palma di Montechiaro, una bomba che, una volta esplosa, avrebbe potuto provocare danni. La polizia adesso chiede al PM della Procura della Repubblica ed Egrigento, che coordina le indagini, l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due giovani, rispettivamente di 20 e 21 anni. I due presunti autori dell'intimidazione erano stati identificati già all'indomani dell'accaduto, ma nei loro confronti non era scattato l'arresto, in quanto era mai trascorsa la flagranza.